Musica Arriva però il consuntivo finale, vogliamo i voti Michele, vogliamo i pangelloni A te in diretta dall'Hotel Melia Arrivo subito Valentina, ben ritrovata, il Melia va svuotandosi per questa sessione che si è chiusa per la Serie A e per la Serie B Ricordiamo la Serie C resta aperta ancora per 7 giorni I miei voti, il mio pagellone, tra poco quello di Alfredo Pedullà alla Serie A Ai 20 club di Serie A, sufficienza piena per l'Atalanta Nonostante Gasperini non fosse contento, il mercato dell'Atalanta è un mercato comunque importante, mirato e strategico Che va a migliorare la formazione di Giampiero Gasperini Il mio voto per la Dea è 6,5 Una delle delusioni invece è il Bologna Bologna che poteva, doveva fare assolutamente di più Invece ha deluso le aspettative Il voto è 5 per il Bologna Mentre il Cagliari comunque ha fatto un mercato importante 6,5 si va a rinforzare Il Letchievo Verona è stata una delusione 5 in pagella per i Clivenzi L'Empoli, l'Empoli era... qual era il problema Pedullà? Erano passati i voti di Alfredo Pedullà Tra poco gli daremo quelli di Alfredo Pedullà L'Empoli voto 6 Comunque ha costruito una squadra per la salvezza e con le proprie forze riesce a chiudere diversi colpi importanti Non a caso l'ultimo strappato alla spalla acqua e un buon riforzo per il centrocampo Fiorentina 6,5 arriva Piazza E' un giocatore che può comunque fare la differenza Seppur arriva in prestito Il Frosinone 6,5 sistema l'attacco Fa dei colpi anche extra che non sarebbero da Frosinone Ma riesce a concretizzare diverse trattative molto importanti Non ultima quella di Pinamonti, 99, è arrivato oggi dall'Inter Voto importante e una sufficienza per il Genoa Che a mio avviso fa un grande colpo in attacco con Favilli L'Inter è la vera rivelazione di questo mercato Voto 9 per la formazione nerazzura Il miglior mercato di ausilio Parametri 0 a Samoa, De Frai su tutti Ma anche Lautaro Martinez pagato poco Keita pagato poco E lo stesso discorso per Versalico Arriva Nengolan che arriva praticamente alla metà del valore dell'anno precedente Ottimo colpo Come non dare 10 alla Juventus 10 alla Juventus se prendi Emre Can e prendi Cristiano Ronaldo Poi chiudi per Cancelo Ti rinforzi in questa maniera Riporti a casa anche se forse antipatico Ma comunque un difensore come Bonucci La Juventus è davvero in Italia Una squadra formidabile Staremo a vedere mai come quest'anno L'assalto all'Europa Bene anche la Lazio Voto 8 Preannuncio che forse Alfredo non sarà d'accordo con me Perché è un po' più basso nel voto per la formazione di Lotito Ma una società che tiene Milinkovic, Savic e Immobile Merita un voto altissimo Così come i colpi Corea E Badel a centrocampo La Lazio che definisce anche Acerbi in difesa E probabilmente è una delle formazioni che potrà lottare Fino all'ultimo per il quarto posto Anche se quest'anno la concorrenza è forte Milan notte e mezzo Ovviamente Iguain e Caldara fanno la differenza Tiene Suso, mantiene anche Cialanoglu Il Milan è quadrato E soprattutto una squadra competitiva Anche nelle alternative Gattuso giocherà 4-3-3 Ma all'evenienza può passare anche a 3-5-2 Perché ha gli uomini e gli interpreti per cambiare il modulo E soprattutto quest'anno Gattuso ha anche diversi ricambi Intelligente Leonardo Che in poche settimane doveva e poteva cambiare oggettivamente poco Ha proseguito nel lavoro già imbastito Da Mirabelli insieme a Rino Gattuso E ha colpito nei posti giusti Napoli 5 La grande delusione tra le big di questo mercato Arriva Ancelotti E allora tutti ci aspettavamo un grande mercato E invece oggi alla fine della sessione estiva del 2018 Il Napoli si becca un 5 Soprattutto perché, e bisogna essere comunque onesti e concreti Il gap dalla Juventus aumenta Ma soprattutto l'Inter in questo momento Almeno sulla carta scavalca il Napoli E il Milan si avvicina tantissimo È un Napoli che doveva e poteva puntare allo scudetto l'anno scorso Quest'anno difficilmente potrà puntare al tricolore Ripeto, almeno sulla carta L'obiettivo massimo è la riqualificazione in Champions League Fare bella figura in Europa Parma 7 Era partito Maluccio Poi Faggiano però fa grandi cose E fa colpi sensazionali Come Gervinio nella giornata di oggi Nell'ultima settimana Un Faggiano scatenato Merita 7 Roma 7 Grandi colpi Sia per la prospettiva Ma anche per il presente È una Roma quadrata Unico dubbio Il portiere Sampdoria 4,5 Male, malissimo La Sampa di Sabatini Soprattutto in quelli che dovevano essere gli obiettivi dell'attacco Puntato di Riusi non arriva Zazza questa mattina era dalla Sampa Invece è andato al Torino Addirittura destro ha detto no alla Sampdoria Aveva puntato poi i giocatori del Chelsea e del Basilea Nulla di tutto ciò Una vera delusione Nonostante l'arrivo oggi di Saponara Sassuolo 7,5 La formazione di De Zerbi Vende benissimo Ma acquista altrettanto bene Poi c'è la scommessa Che per il Sassuolo è un lusso Kevin Prince Boateng Giocatori giovani E la coppia Giovanni Rossi Roberto De Zerbi Funziona alla grande Anche a livello economico Bravo Carnevali Come dicevamo Il Sassuolo ha venduto bene Ma allo stesso tempo Ha acquistato dei giocatori Molto molto interessanti Il progetto di Sassuolo Quest'anno ci piace molto Bravo anche De Zerbi Nelle indicazioni La Spal 6,5 Poteva fare qualcosina in più Torino 6,5 Anche qui poteva fare qualcosina in più Ma alla fine possiamo dire Tranquillamente Che grazie al colpo Zaza Il torre si potrebbe avvicinare Anche alla 7 Udinese 5 Mancano dei colpi E purtroppo ci sono Alcuni ruoli Oggettivamente scoperti Ho finito Pedullà Atalanta 6,5 Perché comunque Chiudere Corigoni È una bella chiusura E Zapata Sicuramente potrà esprimersi Nel migliore dei modi A Bergamo Probabilmente manca qualcosa A centrocampo Però insomma Rigoni è un grande acquisto Bologna 5 Fumoso Senza idee Senza budget E soprattutto Senza un attaccante Di livello Con tutti rispetto Per Santander Cagliari Sufficiente Mi sarei aspettato Qualcosi di più In attacco E un difensore Più collaudato Con tutti rispetto Per l'ultima operazione Che hanno fatto Chievo Verona In concludente 5 Forse sono un po' generoso Empoli 5,5 Perché Acqua Non è reduce Da grandi stagioni Perché Lagumine È un ottimo investimento Però noto Tra difesa E centrocampo Dei buchi A livello qualitativo Per il ritorno in Serie A Fiorentina A livello gestionale Difficilissima situazione Perché budget Assolutamente Quasi inesistente Piazza E la fronte Sono due grandi operazioni La gestione È stata illuminata Nel mantenere Simeone Chiesa Veretù Malgrado le Richieste E le offerte Soprattutto importanti Alcune da 40 milioni Quindi sotto questo punto di vista Pioli riparte con una squadra Più importante Questi voti Comprendono anche Il mantenimento Dei migliori Frosinone 6 Va benissimo Campbell Va benissimo Scommettere Su promesse Del 99 Io avrei scelto Un attaccante Collaudato italiano In grado di dare Migliori garanzie Può darsi che mi sbagli Genoa 6 Semplicemente perché Sono d'accordo sul colpo Favilli Ma in generale Questo smontare E rimontare Di ogni anno Non dà delle certezze E poi dipenderà Anche dall'aspetto Tattico E da quelle che saranno Le idee di Ballardini Che in questi casi È sempre molto illuminato Inter 9 Indipendentemente Dalle suggestioni Delle ultime ore di mercato Un mercato superbo Enorme Il tasso qualitativo Le alternanze Che ci saranno Maggiormente in attacco L'arrivo di Keita I centimetri Il fisico conversalico Nainggolan Duttile Lautaro Pronta ad esplodere Il mantenimento Di Icardi Gli assortimenti Sulle fasce Devrai a parametro zero Mercato molto 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 Importante Da parte l'Inter Juve Cristiano Ronaldo Vale il prezzo Del voto È inutile che vada oltre La Lazio Se è in mezzo Forse un po' basso Potrebbe essere sette Perché c'è stato il mantenimento Vorrei capire Quante come Correa Che stimo molto Potrà dare il contributo Che aveva dato A Sprazzi Ma l'aveva dato Felipe Anderson Mi sarei aspettato Un vice Immobile Più competitivo Milanotto Perché ha fatto Tanto bene Negli ultimi 20 giorni di mercato Ripartendo Riaccendendo i motori Quando la situazione Era abbastanza complicata Con Higuain Ma anche l'Axalt È un acquisto Secondo me molto interessante Il Napoli 6 Mi spiego la sufficienza Capisco che daranno 4, 4 e mezzo 5 Tutti saranno Su sintonie diverse I voti sono molto Opinabili Vanno accettati Quasi per scherzo E per sport 6 perché paradossalmente Ha preso un grande allenatore Come Ancelotti 6 perché Fabian Ruiz E Verdi Per me sono due ottimi acquisti È chiaro che poi Nella sintesi del discorso Mi sarei aspettato Un attaccante Un colpo importante Da 30-40 milioni Giustificato Dalla presenza di Ancelotti Parma perché Gervinio Inglese Grassi Sepe Investimenti sui giovani L'usato sicuro Con Caramò Sarebbe stato Da 7 e mezzo Ma è un mercato importante Roma 7 Mi resta qualche dubbio Sull'esterno offensivo Che non è arrivato E soprattutto Sull'alternanza Tra Alisson Ed Olsen Sperando che Olsen Dimostri di essere All'altezza Perché è un buon portiere Forse non ha avuto Un ambientamento Ideale Sarebbe stato 7 e mezzo Forse 8 Se avesse deruto Alisson E 7 e mezzo Se avesse preso Un esterno Comunque un voto importante Sampdoria 4 e mezzo Per l'imbarazzante Ultimo Penultimo E terz'ultimo giorno Cerchi un attaccante Ne tratti 5 Non ne prendi nessuno E avevi venduto Zapata Circo un mese fa Sassuolo 7 Sono d'accordo Sulla valutazione E sugli investimenti Oltre 20 milioni Per Locatelli Per Marlos Il difensore E comunque Per il mantenimento Di una squadra Che ha tenuto Berardi Ha ceduto Politano Ha soprattutto Accontentato De Zerbi In nome della gioventù E del tasso tecnico Importante Spal 6 6 più Torino 7 Perché Soriano E Zazza Dell'ultimo giorno Valgono questo voto Dal mio punto di vista Forse c'è qualcosa in meno Sulle fasce in difesa Mi sarei aspettato Un colpo lì Però la gestione È stata giusta L'ultimo giorno Le ultime 24 ore Sono state importanti Udinese 4 e mezzo Poca fantasia Ha seguito E gli attaccanti Non li ha chiusi Ha seguito Seferovic Non l'ha chiuso Ha cercato in Italia La Padula E non l'ha chiuso E mi sembrano troppi punti di domanda In qualsiasi reparto Siamo ai saluti Siamo ai saluti Allora noi dobbiamo ringraziarvi Con quello che è L'ultimo giorno Del mercato estivo Ci prendiamo una piccola pausa Noi 7-10 giorni Poi ritorniamo ovviamente 11-12 11-12 11-12 Basta Poi non abbiamo fatto Un giorno di vacanza Quindi Vi salutiamo per 10 giorni Vi lasciamo nelle sapienti mani Nelle braccia Della regina di Sport Italia Che è Valentina Ballarini Che salutiamo E ringraziamo Ringraziamo Per l'affetto La gentilezza La cortesia Il seguito Hai detto 30% Anche per le critiche Le polemiche Ma soprattutto Per l'affetto Che ci hanno dimostrato In questi tre mesi Valentina Ti abbracciamo forte Siamo nelle tue mani Noi ci rivediamo Tra una decina di giorni Per raccontarvi La serie A La serie B La primavera La serie C La serie D Se vuoi andiamo ancora Un po' più avanti Grazie a tutti Per questa sessione estiva Di mercato Davvero straordinaria Siete stati troppo buoni Con noi tutte le sere E ci avete regalato Delle emozioni Dei riscontri E degli ascolti Che ovviamente Ci danno una carica Per il futuro Sempre più grande Grazie Ciao